Ciao, sono Lorenzo e bentornati su Mi Offro Io. Siamo arrivati ormai all'episodio 4 di questa serie dedicata all'educazione finanziaria e quindi vi chiedo, per favore, se la state apprezzando di iscrivervi al mio canale cliccando il tasto iscriviti qui sotto e anche premendo sulla campanella in modo tale da ricevere le notifiche quando usciranno i prossimi episodi. E poi vi chiedo di condividerla con i vostri amici, le vostre amiche, i vostri conoscenti. Negli scorsi episodi abbiamo parlato di come avvengano gli scambi economici e di come il prezzo dei beni e servizi venga determinato dal mercato. A volte però i prezzi possono andare fuori controllo con i fenomeni di inflazione e deflazione e abbiamo quindi visto come il ruolo delle banche centrali sia quello di mantenere stabile il valore della moneta, cioè il suo potere d'acquisto. Per affrontare il prossimo argomento, che è quello più complesso ma anche quello più importante per il sistema economico, cioè il credito, dobbiamo mettere un po' d'ordine tra i soggetti o agenti economici che abbiamo incontrato fin qui e aggiungerne di nuovi. Finora abbiamo infatti incontrato due soggetti principali, le famiglie e le imprese, che sono accomunati dal fatto che operano entrambi in due mercati economici principali. Il mercato del lavoro, o il mercato del tempo se vogliamo vederlo in ultima analisi, e il mercato dei beni e dei servizi. Sul mercato del lavoro sono le famiglie a offrire lavoro e le imprese invece a domandarlo. Al contrario invece sul mercato dei beni e servizi sono le imprese a caratterizzare l'offerta, i beni e i servizi, e le famiglie invece la domanda. Poi certo anche le imprese possono comprare beni e servizi da altre imprese, ma qui stiamo semplificando. Possiamo adesso aggiungere il terzo soggetto, che è lo Stato. Il ruolo dello Stato nel sistema economico è forse uno di quelli più dibattuti in tutta la storia dell'economia, e probabilmente anche quello alla base della fondamentale divisione tra le politiche di destra e le politiche di sinistra in materia economica, con la destra che vorrebbe meno intervento statale nell'economia e la sinistra invece un maggiore intervento statale dell'economia. Qui però ovviamente non stiamo a far politica, quindi mi limiterò a tecnicamente definire quale sia il ruolo dello Stato. Lo Stato ha un ruolo chiave nell'economia nel senso in cui la sua disponibilità economica, cioè i soldi che ha e può spendere, derivano da tasse, imposte e contributi che famiglie e imprese gli versano. Parleremo meglio della differenza tra tasse, imposte e contributi in un prossimo video. E in cambio lo Stato provvede a fornire infrastrutture, come strade, ponti, acquedotti, la rete elettrica, a fornire servizi pubblici, come l'istruzione, la sanità, la polizia e le carceri, il sistema di accoglienza, prestazioni sociali, come la pensione o la casa integrazione e i sussidi, come il sussidio di disoccupazione. Allo stesso tempo lo Stato compra beni e servizi dalle imprese e impiega lavoratori nella pubblica amministrazione, esprimendo quindi una domanda di lavoro nei confronti delle famiglie. Ha anche un ruolo di arbitro e di regolatore, con i celebri poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Ma questa è un'altra storia e per quanto riguarda il ruolo dell'economia basta quello che abbiamo detto. Fin qui è tutto abbastanza lineare e anzi potremmo dire che, in sostanza, ogni scambio economico prevede che la spesa di qualcuno sia il reddito di qualcun altro, almeno per quanto riguarda famiglie e imprese. Aggiungendo lo Stato, questa equivalenza tra spesa e reddito si fa più sfumata, ma anche qui, in sostanza, con i soldi delle tasse, lo Stato paga beni e servizi e lavoratori e quindi si pone quale redistributore di ricchezza. Ma cosa succede in un sistema economico ai soldi che non vengono spesi? O cosa succede invece quando c'è necessità di spendere soldi che non si hanno? Il quarto e ultimo soggetto che dobbiamo introdurre, e quello che ci permette di parlare di credito e di debito, è il sistema finanziario, che nasce proprio con l'obiettivo di redistribuire la moneta da chi la ha e non la utilizza a chi non l'ha e ne ha bisogno. Non stiamo però parlando del tipo di redistribuzione che opera lo Stato, in cui effettivamente i soldi si spostano da una persona a un'altra, bensì di una redistribuzione nel tempo, in cui un soggetto presta del denaro ad un altro soggetto, ma si aspetta poi di ricevere indietro quanto prestato in un tempo futuro. In questo modo si evita che i soldi, la moneta, che è una risorsa finita, resti ferma da qualche parte e non contribuisca invece a quel processo di scambi economici che mette in moto l'economia, che la fa crescere, e che, o almeno sarebbe l'obiettivo di lungo termine, rende la vita migliore a tutti noi. Il sistema finanziario di cui fanno parte le banche e quelli che i giornali e i telegiornali più comunemente definiscono con il termine i mercati, non è altro che l'intermediario tra famiglie, imprese e Stato. Raccoglie i risparmi, cioè tutta la moneta che famiglie, imprese e Stato non utilizzano, ed eroga prestiti e finanziamenti a chi non ha moneta ma ne avrebbe bisogno. Almeno in Italia, guardando ai cosiddetti saldi finanziari, si vede che le famiglie hanno un saldo finanziario positivo, cioè hanno dei risparmi che investono nel sistema finanziario, mentre al contrario lo Stato e le imprese hanno saldi finanziari negativi, hanno necessità di denaro e di conseguenza lo richiedono in prestito al sistema finanziario. Così come la moneta, di cui abbiamo parlato nell'episodio 2, il concetto di credito, o di debito, che non è altro che il credito visto dalla persona che lo riceve, è un costrutto sociale, nasce da un accordo tra chi lo eroga e chi lo riceve, e per sua natura contiene il concetto di rischio. Il rischio, cioè che quanto prestato non venga restituito, oppure che ne venga restituito di meno, oppure che ne venga restituito però in un tempo molto più distante rispetto a quanto inizialmente pattuito. E di questo rischio parleremo meglio nell'episodio 7. Il rischio, inoltre, sarà tanto più alto quanta più bassa è la reputazione del soggetto a cui prestiamo del denaro. Ed è per questo motivo che, se già in passato un soggetto ha dimostrato di non essere in grado di ripagare i propri debiti, beh, saranno meno propensi altri soggetti a prestargli altro denaro. Oppure prezzeranno questo rischio, cioè chiederanno indietro, oltre a quanto prestato, una quantità di interessi maggiore. Ma anche di questo parleremo meglio più avanti. È importante notare che il credito rappresenta una parte fondamentale dell'economia. Limitandoci all'eurozona, cioè all'insieme di paesi che adottano l'euro come moneta, l'ammontare totale di moneta, sia cartacea che bancaria che elettronica in circolazione, è di circa 10.000 miliardi di euro. Mentre l'ammontare totale di credito ammonta circa 41.000 miliardi di euro, di cui circa 13.000 miliardi in capo ai governi, e 28.000 miliardi in capo a famiglie e imprese non finanziarie. Quindi circa 4 volte tanto è l'ammontare di credito rispetto all'ammontare di moneta. Pertanto, quando parliamo di soldi, in realtà per la maggior parte dei casi stiamo parlando di credito e di debito, ed è importante tenere a mente questo concetto per i prossimi episodi. Solitamente tendiamo a dare un'accezione negativa al debito, pensiamo ad esempio alla lista dei debiti di Paperino nei confronti di Zio Paperone, ma di per sé l'idea di dare o prendere a prestito del denaro non è connotata moralmente. Il credito, il debito, è uno strumento e come tale dipende dall'uso che ne facciamo, se sia un bene o un male. Il debito buono è denaro che viene preso a prestito per aumentare la nostra probabilità futura di ripagarlo. Quindi se per esempio lo utilizziamo per avviare un'attività produttiva o per incrementare la nostra produttività e quindi aumentare il nostro reddito con parte del quale ripagheremo il debito. Al contrario, il debito cattivo è quello che finisce in spese fini a se stesse e che quindi diminuisce la probabilità futura di ripagarlo. Per fare proprio un esempio concreto, il debito buono è per esempio prendere a prestito del denaro per comprare una videocamera con la quale puoi fare dei video su YouTube, monetizzarli, ottenere del reddito e con parte di esso ripagare. il prestito iniziale. Al contrario, invece, è debito cattivo se prendo a prestito dei soldi per comprare una televisione e poi passo tutte le mie giornate a guardare serie TV. Quindi, per ricapitolare, in un sistema economico parte della moneta non viene impiegata in scambi e resta quindi ferma sotto forma di risparmio. Allo stesso tempo, però, esistono dei soggetti che non hanno moneta e che però la necessitano per incrementare la propria produttività, come ad esempio le imprese. Anche lo Stato può avere bisogno di moneta per finanziare la spesa pubblica e per questo motivo anche lo Stato può indebitarsi, come vedremo più avanti. Il sistema finanziario nasce per soddisfare l'esigenza di ridistribuire la moneta tra i primi soggetti, quelli che la possiedono e non la utilizzano, ai secondi che non la possiedono e la necessitano, quindi raccogliendo ed erogando credito e creando simultaneamente il debito. I principali soggetti che fanno parte del sistema finanziario sono le banche e i mercati finanziari, ma di questo parleremo nel prossimo episodio. Quindi questo era tutto quanto volevo dirvi in questo quarto episodio dedicato all'educazione finanziaria. Come sempre vi invito a condividerlo e vi aspetto nei commenti per domande, opinioni o critiche. Noi ci vediamo al prossimo video!